In questa presentazione vedremo le principali tappe della vita di Giuseppe Ungaretti. Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto da genitore di origine toscana. Qui riceve le sue prime influenze culturali e compone le prime poesie. Nel 1912 si trasferisce a Parigi dove frequenta l'università e si immerge nel fiorente ambiente culturale dell'epoca. Nel 1915, dopo aver pubblicato le prime poesie, è chiamato in guerra come soldato semplice e combatte prima sul Carso e poi sul fronte francese. Dall'esperienza traumatica della Prima Guerra Mondiale nascono molte poesie che nel 1916 confluiscono nella raccolta Il Porto Sepolto. Dopo la guerra Ungaretti ritorna a Parigi e qui sposa Jeanne Dubois, dalla quale avrà due figli. Del 1919 è la raccolta Allegria di Naufragi, che comprende anche le poesie presenti nel Porto Sepolto. Tra il 1921 e il 1936, Ungaretti risiede a Roma compiendo frequenti viaggi e lavorando come giornalista. Nel frattempo proseguono le pubblicazioni di raccolte poetiche. Al 1931 risale infatti l'Allegria. Nel 1933 il poeta pubblica la raccolta Sentimento del Tempo, nella quale ritorna a forme stilistiche più tradizionali rispetto alle raccolte precedenti. Tra il 1937 e il 1942, Ungaretti è a San Paolo in Brasile e insegna letteratura italiana. Nel 1942 diventa Accademico d'Italia e insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Roma. Nella raccolta Il Dolore, pubblicata nel 1947, il poeta trasferisce le esperienze tragiche della morte del figlio bambino e della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni 50 e 60 sono per Ungaretti ricchi di riconoscimenti poetici e di lauree honoris causa. Prosegue anche la pubblicazione di raccolte poetiche che verranno poi pubblicate da Mondadori complessivamente con il titolo Vita ad un uomo. Ungaretti muore a Milano a 82 anni. Grazie per l'attenzione e buon ripasso.